cazzo non vincevamo da così tanto tempo che non so come iniziare il video buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è stata una sofferenza immane ma ce l'abbiamo fatta Milan Bologna 2 a 1 un risultato importantissimo che ci tiene ancora in vita che ci tiene ancora in corsa ma che nonostante tutto nonostante questi tre punti mi porta lo stesso a sclerare male e stavolta udite udite non c'entra niente Gattuso non c'entra niente Suso e non c'entra niente neanche Borini perché Suso e Borini abbiamo fatto l'accoppiata magica stasera cioè veramente non so non so che cosa possa essere successo ma ma siamo il Milan quindi anche le serate positive non riusciamo proprio a godercele fino in fondo perché questa vittoria è stata letteralmente costellata da masterclass inarrivabili e mettiamo in chiaro una cosa Bakayoko vai a fare in culo perché quello che abbiamo visto stasera è inconcepibile ora voi potete essere contro Gattuso quanto volete sapete benissimo che cosa penso io di Gattuso ma tu professionista non puoi fare una scenata di questo tipo in un momento e in un momento così importante della nostra stagione hai dimostrato soltanto di essere un egoista di merda di pensare solo al tuo orticello e quindi caro Bakayoko mi dispiace sei fortissimo personalmente ti reputo un grande giocatore ma dopo stasera puoi tranquillamente andartene a fare in culo chiarita questa cosa di bello di bello di bello ragazzi questa sera ho riassaporato i vecchi tempi avete presente i vecchi tempi quelli belli il 2004 2005 i tempi proprio della freschezza cioè questa sera ho visto le masterclass le masterclass tutti i giocatori in diffida ammoniti quanto per essere chiari Paketà è espulso espulso perché? perché espulso? perché lo tranciano in due ovviamente la prima ammonizione se la prende lui per proteste lo tranciano in due il primo a essere ammonito è Paketà bello tutto molto bello e poi che cosa succede? l'arbitro gli mette la mano qui per allontanarlo Paketà gli leva la mano e per questo viene espulso ragazzi qua non siamo neanche ai livelli 2004 non siamo ai livelli calciopoli qua siamo ai livelli masterclass cioè quest'anno stiamo raggiungendo mette inarrivabili cioè veramente tutta la gentaglia che arbitrava in quegli anni sarebbe realmente fiera di voi complimenti veramente la sera secondo me c'era il buon Luciano che ha guardato questa partita gli è scesa una lacrimuccia per quanto siete stati veramente fantastici uno schifo fate schifo e mi duole dirlo e mi duole dirlo nonostante questa vittoria io alla Champions continuo a crederci molto poco continuo a crederci molto poco perché innanzitutto bisogna capire con quale centrocampo andremo a giocare a Firenze perché sinceramente Bagaioco dopo la stronzata abominevole che ha fatto stasera non so che fine farà Biglia si è rotto C'è la Noglu si è rotto Paketà è squalificato quindi a questo punto abbiamo che sì abbiamo Jose Mauri non so se riesumeranno Montolivo o Bertolacci non so chi però è dura ragazzi abbiamo tutto contro abbiamo tutto contro siamo scarsi siamo sfigati siamo stronzi e giochiamo pure 12 contro 11 ogni volta quindi è dura purtroppo è dura però siamo lì abbiamo superato la Roma per gli scontri diretti e per il momento va bene per il momento va va bene così e allora piccola cosa lo so che ha poca importanza e che dovrebbe essere la normalità ma a tutti i suso fag ai tutti i fan del Berardi Reggaeton del Nicky Jam col numero 8 calmi è il suo secondo gol nel 2019 alla 35esima giornata in casa contro il Bologna quindi calmi stiamo tutti calmi e vediamo di non prenderci libertà che non hanno senso che dite buona continuazione a tutti dai è andata bene è andata bene e teniamocela così per comando sto distruggendo tutto tutto Grazie a tutti.